Perché andare, perché parlare, per poi non dire ciò che si vuole, perché cercare di capire poi, perché il passato non ritorna mai, perché bussare, per poi restare, tra cieli e lune, ad aspettare, perché riaprire quella porta, se nel profondo guarire non ti importa, forse è meglio impazzire, forse è meglio volare, forse è meglio sparire e tagliare la corda, Perché amare, perché odiare, se nel tuo cuore non hai la forza, perché tradire una certezza ormai, perché cercare la risposta in noi, Perché mentire, perché tacere, se nella bocca non hai piacere, Perché seguire la coscienza poi, se la coscienza di contro non ti ascolta, forse è meglio smarrire, per potersi trovare sai, far salire e crollare castelli di carta, forse è meglio accettare, poi nella tempesta, fare posto al silenzio, fermare la testa, Forse è meglio finire, rallentare la corsa, dare un calcio nel buio e riparte la ciostra, A presto a tutti, a presto a tutti. Grazie a tutti